Unisce comunicazione e immaginazione l'originale mosse dell'artista Lorenzo Marini, evento di Ivrea, capitale italiana del libro 2022. Gianni Maritati. Abbiamo tutti familiarità con le tastiere, i computer, i cellulari. Ogni singola lettera può essere sì l'inizio di una parola ma anche di una colorata e emozionante avventura artistica. È questo il senso della mostra Olivet Type di Lorenzo Marini a Ivrea. 36 opere esposte, 36 come la leggendaria lettera 22, icona del design italiano nel mondo. Le lettere non servono più per leggere, per scrivere. Sono molto più che una funzione, sono molto più che segni grafici neri su fondo bianco, ma sono narrazioni, sono attimi. Quello che mi piace è scombinare tutto quest'ordine e ricombinare in questa pioggia di emozioni, di attimi, di poesia. Le lettere come opera d'arte, come esperienza estetica. Si può passeggiare fra di loro e scoprire nuovi mondi. Un omaggio all'umanesimo visionario e innovativo di Adriano Olivetti e insieme il primo grande evento legato a Ivrea, capitale italiana del libro 2022.